Per il tuo locale vorresti proporre qualcosa di nuovo, divertente, unico? Si la do! La soluzione! Si la do! La soluzione è il solo gioco a quiz con postazioni ispirato alla trasmissione tv Sarabanda e il divertimento è assicurato! Fai vivere nel tuo locale l'atmosfera di uno studio televisivo per una serata di sicuro successo! Contatta Fleli Animazione per questa e tante altre novità